Mamma mia che cedo le ragazzi le nuove missioni e poi queste sono proprio come piacciono al pubblico italiano sottostante tutto italiano, belle barriere profonde e ovviamente tutti i contenuti di questo video non sono dei consigli finanziari e come sempre non dovete mai basare nessuna decisione dei vostri investimenti guardando questo video sono andata a sbirciare soprattutto le missioni di aprile 2024 e con la stessa scadenza guarda caso entrambi i certificati di oggi scadono a giugno 2027 però ho voluto portare due emittenti diversi con due sottostanze abbastanza simili ovviamente anche perché ho immaginato che nel pubblico c'è chi è esposto più in uno o nell'altro emittente sappiamo tutti che nei certificati è molto importante diversificare l'emittente perché siamo esposti anche a questo rischio siamo ben pagati da cedole mensili come vediamo in questo caso e quindi dobbiamo anche correre questo piccolo rischio scegliere bene anche l'emittente, non abbiamo mai avuto problemi finora, ne siamo andati a prendere una barriera dall'anno scorso che parlo di certificati, speriamo che succederà il più tardi possibile, comunque andiamo a vedere i certificati di oggi c'è questo Marex che balla sui 100, quindi è importante se ci mettete piccole sites fatevi sempre il calcolo con il costo delle commissioni e le cedole che andate a incassare, un 18,5% all'anno ragazzi, il che equivale a un mensile 1,542 al mese ci hanno un difetto, sia questo che un po' meno quello successivo di certificato che possono andare subito in autocall qualora tutti e quattro i sottostanti si trovano sopra lo strike al 99% da maggio, al 98% da giugno, da luglio 97% dello strike questo certificato viene rimborsato e la Marex e io che sto lì sempre col cronometro abbiamo visto che ci mette una settimanella, 10 giorni, sono sempre arrivati, adesso la tengo d'occhio ho quotata sul Nasdaq, non vedo l'ora di vedere un attimino i loro bilanci, tuttavia, tuttavia poi magari è colpa anche non dell'emittente ma della banca, ai ragazzi che gli manda i soldi la banca ce li mette sul conto corrente un po' in ritardo dunque le emissioni del 2024 di aprile mi sono sempre un po' piaciute perché hanno questi livelli di strike un po' più bassi perché aveva un po' corretto l'SP500, l'abbiamo notato tutti, poi si è ripreso e quindi le barriere sono più lontane, questa addirittura è un barriere al 50% ragazzi che per le cedole che paga secondo il mio parere è un bel rendere, no? e vi dico i sottostanti, rapidamente con le barriere STM da 39 non deve andare sotto i 19,5 Unicredit 34,17 BPM da 6,08 non deve andare sotto i 3,04 curiosità, hanno pagato il dividendo Unicredit e BPM ad aprile stanno già sopra lo strike, nonostante anche il calo e poi il rimbalzo dei mercati adesso sto registrando verso fine maggio Stellantis, eccolo l'anello debole del certificato quindi dovete studiarvi bene questo sottostante eventualmente e ovviamente anche gli altri da 24,38 di strike non deve finire sotto i 12,19 sta a 20, sta a 20, quindi molto probabilmente questo primo mese non verrà rimborsato non finirà al 99% del livello di strike e c'è anche STM che sta a 38 quindi STM anche lei sta sotto a oggi fuori dal rischio rimborso però ci siamo ragazzi io personalmente questi hanno questo difetto volete questi bei certificati con bei sottostanti blue chip che non vi fanno meno 15, meno 20% in un giorno pagano il rischio però l'emittente deve fare i soldi anche con le commissioni di entrata e di uscita e ve li fa rimborsare quindi attenzione al prezzo d'ingresso cercate di pagare il meno possibile insomma con un po' di pazienza aspettare una debolezza se vi sfugge, se vi sfugge, pazienza situazione simile un po' meno perché dà una possibilità siccome di un rimborso un po' più simile, struttura simile sempre la Unicredit quindi AAAB emittente diverso struttura simile con i quattro sottostanti italiani li chiama cash collect step down con cedola a memoria anche questo paga un po' meno 1,31 al mese quindi per 12 mesi fa 15,72% è un barriere a 60% un'emissione proprio di adesso, di maggio 2024 che ha scadenza però come il certificato precedente a giugno 2027 però c'è una particolarità adesso andiamo a vedere i sottostanti che andiamo a vedere vedete la casualità quando avviene il fixing dell'emissione dei certificati Enel da 6,4 non deve andare sotto i 3,8% Intesa San Paolo 3,59 2,1% BPM 6,2% quindi 3,7% quindi ha una barriera più alta rispetto a quella del certificato precedente l'anello debole delle 4 Stellantis che era presente anche nel certificato di prima da 19,8 ha la barriera 11,88 vuoi che ha deciso di scendere quando stava costruendo il certificato Unicredit quindi se anche voi come me considerate il peggiore dei sottostanti Stellantis non è un peggiore non ce l'ho con Stellantis oggi ragazzi è il comparto auto che non se la sta passando benissimo c'è tanta concorrenza ricominceranno a farsi rispetti con i taxi però probabilmente Occidente, Cina le sentiamo tutti i giorni queste cose e questo certificato ha una struttura che prevede un rimborso step down quindi 5% in meno rispetto al fixing iniziale di maggio 2024 da novembre quindi tra 5 mesi quindi prendendolo mettiamo a 100 ci sono belle 5 cedole che ci vanno a coprire iniziano a farci guadagnare qualcosina copriamo tutti i costi di commissione eccetera eccetera quindi da maggio poi non solo da maggio poi inizia a scendere mantiene per diversi mesi adesso non mi ricordo se 2, 3 o anche addirittura altri 5 questa struttura di rimborso che qualora uno dei sottostanti non stanno tutti i sottostanti non stanno sopra il 95% del fixing continua e poi scende al 90% e così via la scadenza ve l'ho detta ragazzi mi raccomando come al solito vi chiedo di fare le domande il più possibile sotto il video youtube o sotto il post sulla pagina facebook su youtube è sempre meglio se avete domande lì le fate mi fa sempre piacere se vi iscrivete al canale se mettete un like alla prossima ragazzi fatemi sapere se vi piacciono